E' stato ministro dell'innovazione nel secondo e terzo governo Berlusconi, ma l'Italia non è riuscita ad innovarla. Lucio Stanca, 72 anni, originario di Lucera, ex manager dell'IBM, prima di passare alla politica, fa il mea culpa, ma poi punta il dito contro i poteri immobili che impediscono ancora oggi all'Italia di cambiare. Quello di Confindustria, ma anche quello del sindacato, è la burocrazia opprimente, è il gioco di veti e contrappesi che blocca le decisioni della politica, e le autonomie locali tanto autonome da bloccare, ad esempio, anche il raddoppio della linea ferroviaria adriatica. L'Italia, vista da fuori e da dentro, è il titolo del libro che l'ex ministro ha presentato a Foggia. Ed è un libro nel quale Stanca, che all'estero ha lavorato e quindi l'Italia l'ha davvero vista anche da fuori, non è affatto tenero col suo paese, che pure ama incondizionatamente, e che, ricorda, ce la può fare, perché è pur sempre il secondo paese manufattoriero d'Europa. Qualche idea per uscire fuori dal pantano Stanca ce l'avrebbe, puntare su cultura, made in Italy, arte, turismo e stile, insomma ciò che ci contraddistingue, ma nello stesso tempo ridurre la spesa pubblica, vendere beni pubblici, ridimensionare l'intervento dello Stato nel sociale ed affidare più servizi, anche previdenziari, ai privati. Insomma, una buona iniezione di liberismo, tanto per cominciare. E poi, leadership nuove. Nel libro si parla anche del mezzogiorno. Il nostro caro Amato Sud ha aumentato la distanza verso il nord negli ultimi 20-30 anni. Cioè, noi stiamo andando nella direzione opposta di quello che dovremmo fare.